Ecco l'annuncio sul sito del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina che parla di azioni ostili da parte della Bielorussia e chiede di ritirare le truppe bielorusse dai confini di Gomel. Minsk, sotto il pretesto di esercitazioni, sta ammassando personale, forze speciali e equipaggiamento militare. Kiev assicura che non intende prendere misure ostili. Questa dichiarazione non è altro che una provocazione, ma già a livello di relazioni internazionali. Fate mente locale, ci sono stati chiari annunci sulla provocazione da parte dell'Ucraina nello spazio aereo di Mogilev? Non ce ne sono stati. Ci sono stati alcuni commenti da parte del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina riguardo ai sabotatori che sono stati catturati nel nostro territorio e addestrati sul territorio dell'Ucraina? Neanche questo. Quindi ritengo che sia una banale provocazione che purtroppo per noi ha radici molto profonde. È rivolta principalmente, credo, al pubblico occidentale. La Bielorussia ha dimostrato più volte il suo amore per la pace. Questo è sancito anche in importanti documenti statali. Ma qualsiasi provocazione che coinvolga una violazione del confine statale sarà fermata con decisione dalle forze a disposizione. Il 9 agosto di quest'anno, le forze di difesa aerea delle forze armate della Bielorussia hanno colpito obiettivi aerei che volavano dal territorio dell'Ucraina. Sono stati abbattuti 11 droni ucraini. I nostri militari hanno preso misure forzate per proteggere i propri confini. Le relazioni tra Bielorussia e Ucraina sono state il principale argomento dell'intervista del capo dello Stato al canale televisivo Rossiya. Alexander Lukashenko ha parlato delle circostanze in base alle quali è stato formato un gruppo di difesa al confine meridionale bielorusso e delle misure che hanno costretto Minsk a dispiegare nuovamente le truppe in quella direzione. L'argomento ha ricevuto un seguito inaspettato. Ha seguito una risposta ufficiale da Kiev sotto forma di una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri. In essa si afferma che Kiev riconosce il proprio diritto all'autodifesa, teme per la sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl. Qualsiasi accumulo di mezzi, obiettivi militari e comunicazioni sarà considerato un legittimo obiettivo militare. Nessuno può e deve dirci quali eventi organizzare, inclusi quelli relativi alla sicurezza nazionale, nel campo militare, sul territorio del nostro Stato. Questo è il nostro Paese. Pertanto tutto ciò che accade oggi, inclusa la regione di Gomel, si riferisce anche alle truppe e alle forze dispiegate sui confini statali. E quegli eventi legati alla verifica delle questioni di difesa territoriale, questi sono i nostri eventi che conduciamo sul nostro territorio. E questi eventi sono legati alla preparazione futura delle nostre forze armate, delle truppe territoriali a possibili varie situazioni. Legate alla sicurezza militare. Pertanto, qualcuno ci indica dove dobbiamo tenere questi eventi. Non può e non ha il diritto. Dall'altra parte, sanno perfettamente che non abbiamo intenzione di attaccare e che abbiamo creato il raggruppamento a scopi difensivi. Tuttavia, a Kiev fanno finta di non conoscere le intenzioni bielorusse. Che sente un cittadino straniero? Che l'Ucraina è preoccupata dall'accumulo di truppe al suo confine dalla parte della Bielorussia, ma non sentono che si tratta di una misura di risposta alla provocazione delle autorità ucraine. Pertanto, a mio avviso, dobbiamo considerare questa dichiarazione come una provocazione. Abbiamo tutto il diritto di spostare le nostre truppe sul nostro territorio, dove vogliamo, quando vogliamo e per qualsiasi motivo. Questa provocazione nel campo mediatico, direi per lo più, è mirata a costringere sponsor occidentali a muoversi, stanziare fondi ed è allo stesso tempo un goffo tentativo di minare l'immagine della nostra pacifica Repubblica di Bielorussia. All'interno del potere di Kiev ci sono punti di vista contrastanti. Alcuni, come i militari, sostengono la normalizzazione della situazione, mentre altri, legati alla politica, vogliono prolungare il conflitto, incluso provocare al confine bielorusso. Come dovremmo considerare tutto ciò che riguarda il dispiegamento delle truppe direttamente al nostro confine di Stato? Questo è stato detto anche dal segretario di Stato, il Consiglio di Sicurezza, che ha visitato le truppe. Nene Tiazza... Schierate al confine di Stato, 17.000 unità della Forza di Difesa Territoriale, direttamente al nostro confine di Stato. Cos'è questo? È il gruppo Sever, che conta fino a 100.000 unità. Cos'è questo? Come dovremmo vedere, è forse un atto amichevole nei confronti del nostro Stato? E la conduzione di operazioni di ricognizione contro di noi con violazioni, compreso lo spazio aereo. Parliamo dell'uso di droni per la ricognizione. Cos'è questo? Sono questi gli atti amichevoli di cui parla il comunicato del Ministero degli Esteri? Certamente no. L'Ucraina rischia di entrare nel periodo autunno-inverno non solo con una carenza di elettricità, carbone e gas, ma anche con tensioni al confine tra Bielorussia e Ucraina. Tuttavia, sembra che questo non spaventi gli strateghi a Kiev. Almeno fino alle elezioni americane, l'escalation continuerà, per ottenere il massimo budget per la difesa dagli Stati Uniti per il prossimo anno. Anastasia Yaroschik-Kornienko, Aleksandr Bojkov, Artyom Shukalovic, Andreyla Zutkin, STV Grazie a tutti.